E ciao a tutti ragazzi, io sono Epirox e bentornati in un mio video del canale Oggi ci ritroviamo su FNAF R e ragazzi ho riscattato un'esca strana Cioè nel senso, Kurs Chi è Kurs? Esattamente, cioè no, perché non capisco, mi sembra uno Springtrap ma, cioè non c'è scritto Kurs, Springtrap Esattamente che cos'è? Ditemelo poi nei commenti perché almeno capisco se sconfiggerlo oppure no Allora, adesso, io direi di intanto affrontare ovviamente i vostri animatroni subito Vediamo, iniziamo da Bon E qui Bon, bravo Bon Si va Ma ragazzi ma non ho l'uminosità, adesso aumento Eccomi qua Ok, ho un po' alzato la luminosità, perfetto Sei qui Ragazzi Questo Bonny non si sta capendo, cioè Credo sia qua Oh qua Ok Qui sicuro Perfetto No Ok Dai, 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 dai Perfetto Vai, fermi addosso Fai il profondino Ok Qua Niente Non si vuole per rivedere Non ci vuole per rivedere Non ci vuole per rivedere Allora 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 Non dobbiamo parlare Non credo Quindi Qua Qua Ok E' qua Circa E' qui E' quello qua Ok ragazzi Primo animatronico Sconfitto Perfetto Quanti palloncini per un Bon Ok Come sempre Glitch fast coins Perfetto Adesso Vediamo qua C'è un Freddy Che adesso sconfiggo E nessun altro Strano Missioni è Incontrare Animatroni A caso Ottieni una modifica Ok Ragazzi Aspettate un attimo Che adesso Mi si ricarica la batteria E poi Possiamo continuare Ok Credo Di avere Aspettato Abbastanza E quindi Si va Inviato da FK Gabri Ciao Gabri Ok Allora E' un endo Quindi non so neanche Se mi serve La torcia Oppure no Allora Where are you? Eccoti qua Dai forza Su No Ah Mi volta di infarti Ok Eccoti qua Di qua Credo di qua Perfetto Dai Perfetto Adesso Non capisco Non capisco dove sei Esattamente Qua 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 Perfetto Perfetto Anche freddi sconfitto Ciao freddi Ok ragazzi Credo che con i vostri Minotenti E' finito Perché Me ne arrivano Un tot Un giorno Ok Perfetto Continua Invece dei falsche Perfetto Eh no Ho visto qualcun altro qua Un ballon boy Che è già sparito Ah no Ecco qua Ok Adesso Sconfiggerò anche quello Ma prima Direi subito Di usare Un'esca giornaliera Allora Proviamo Melted Chocolate Bonnie Non uso Chocolate Bonnie Dov'è? Chocolate Eccolo qui Perché è molto più bello E se non ho l'esca Mi arrabbio Ah comunque ragazzi Ho notato di aver tre esche Golden Freddy Non mi chiedete come L'avrò prese dai Venti scorsi Non lo so Allora Qua Melted Bonnie Noi ovviamente Ci prendiamo Batterie extra Ogni volta Ok Prese L'abbiamo prese Adesso Tu però Mi sei Sparito Ah no Eccoti qua Perfetto Andiamo Mamma mia Com'è storto Questo Si è sciolto Si è sciolto al sole Ragazzi Dal caldo che fa A me al momento Ci credo che si sia sciolto Ok è qua È qua È circa qua Ok Ok Credo che sia circa Ok Dove sei adesso Adesso Eccoti qua Ok Ok Sei circa qua Sei qua In teoria Ok Eccoti di nuovo qua Oh Guarda che Ti sciolgo ancora di più eh Se non sei bravo eh Ti avviso Io ti ho Giardo Calma Calma È un gioco questo Devi calmarti Bogni Lo so che ti sei fuso Lei ieri Ma Devi Calmare Eccoti qua Dai corri Perfetto è qua Qui Dai Eccolo Eccolo Non è niente ragazzi Non lo ho visto vicinissimo Ce l'ho fatta Ok Ok Allora Se mi è Capitato Bonni Se mi è Capitato Bonni Allora Non è sì Oh No Melted Bonni No Che Che culo Che fortuna No Non ci posso credere Niente A quanto pare La fortuna Mi vuole bene Dovevo sconfiggere Chocolate Bonni Però eh Ah No ragazzi Bellissimo Cioè ho ottenuto tantissima roba Tra l'altro Adesso Qua Infatti Tutto adesso Qua le ricompense sulla mappa Lo farò poi Da solo No ragazzi Aspettate Ho richiamato Tutti Scusate ragazzi Da il mio Stupido L'exito Ok Che ripariamo Ho richiamato tutti Perché ragazzi So che le avete già sconfitti Cioè E riparti Ragazzi Non si ripara Vabbè Allora Intanto Mettiamoci Mettiamoli Nell'ordine Originale Assembla Ci mettiamo Bonni Assembla Ci mettiamo Ah no Cica non ce l'ho Aspetta Tu Bonni Aspetta No Allora Ci mettiamo Foxy Aspettate ragazzi Che rimette un po' D'ordine Qua No Cosa si faceva Assembla Mettiamoci Cica Qui la CPU di Bonni Non c'è Ok Adesso ce l'ho E ragazzi Eccolo qua C'è 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 Melted Chocolate Bonni Non ci credo Ragazzi E' fatta bellissimo Questa skin Ok Se Se vorreste questa skin Ma dubito che la vorrete Perché ragazzi Non è delle migliori Però Basta Che me lo scrivete sotto i commenti E se ragazzi Ad alcuni di voi Non rispondono i commenti Semplicemente Perché non mi arriva la notifica Non so perché Certi commenti Non mi arriva la notifica Perché questo mondo A quanto pare A volte mi vuole male Quindi mi sono ritrovato oggi Controllando il YouTube studio Di trovare dei commenti Di tre settimane fa O di dieci giorni fa A cui ho risposto oggi Perché Perché non mi era arrivata la notifica Ma comunque Anzi Questo qui Adesso Vediamo che è Il primo che mi ha richiesto Ancissi qua Amici Amici Ragazzi Ragazzi Mi caricano Gli amici Perché non mi caricano Ok ragazzi Mi ha caricato Ma ho dovuto Di avere il gioco Allora Francescone È la prima persona Che mi ha chiesto L'amicizia E sinceramente Un po' Non le ho praticamente Mai inviato Animatroni Quindi ragazzi Non per preferenze Ma a lui Ciao francino Pala Comunque Ragazzi Se volete questo animatronico Ripeto Basta che me lo chiedete Non Mi dispiace Per quel ballon boy Ma non sono riuscito A combatterlo Ma comunque ragazzi Per questo video è tutto Iscrivetevi al canale Ve lo sto chiedendo Adesso Perché siamo quasi Ai 200 iscritti E ci sono arrivato Con una velocità Veramente pazzesca Non me l'aspettavo ragazzi Quindi Cerchiamo di arrivare Ai 200 iscritti E per oggi è tutto E ci vediamo La prossima volta Con un altro video Ciao